buongiorno dopo tanto tempo che non ci si vede non ci si sente perché qui dalle mie parti acqua zero quindi neanche funghi però oggi anche se è completamente asciutta la pineta dove io vengo a fare i funghi ho trovato i primi tre bocconcini e ora ve li faccio vedere sperando che nei prossimi giorni spunti qualcos'altro ora ve li faccio vedere il primo è questo come vi potete vedere sono nati ma rimangono fermi sono asciutti sono asciutti perché non piove però è molto bello è questo bellissimo anche questo due c'è un altro più piccolo ecco eccolo qui e tre finalmente ho ritrovato qualcosa l'ultima volta mi pare un paio di mesi fa forse di più che ero riuscito dopo qualche giorno di pioggia a trovarne due o tre bellini eccoli qua si ritorna a trovare qualcosa speriamo sia l'inizio anche per me buona giornata a tutti alla prossima quando rompo te ne accorgi non intendevo con te te ne accorgi ugualmente eravamo tutti al tavolino e ora vado via la casa è pronta ciao ciao ora vado via la casa e la apro a chi mi pare e quelli che non mi stanno bene non mi apro la porta e mando fuori brava e io la guardai no no io la guardai e mi dissi a me il foglio mi sono andato a chiuscire a 12 anni perché lei è sempre cala perché mi è la più speciale io che la faccio non c'erano infatti infatti te ora sei a casa di qualcun altro infatti mi vedremo perché io mi vedo non mi vedo era più bello no